William Mamler William H. Mamler Trapassato nel 1884 Strumento americano, il primo dei cosiddetti fotografi medianici. Incisore presso una gioielleria di Boston, nello studio di un amico fotografo, tentò di fotografarsi da solo e sulla lastra apparve, oltre la sua, anche un'altra immagine. Credette di aver usato una lastra già impressionata, ma altri tentativi diedero lo stesso risultato. Un amico riconobbe, in una di queste immagini raggiunte, una sua parente trapassata a dodici anni e si diffuse così la convinzione che si trattasse di un nuovo fenomeno medianico. Ma nel 1867, in alcune immagini doppie, fotografate dal Mamler, vi erano alcune persone viventi. Nella confusione della prima medianità organizzata, il fenomeno venne subito catalogato come frode dagli stessi medianisti che avevano sostenuto il fotografo medianico. Col tempo, però, che equivale a dire con l'evoluzione, si è capito che le fotografie ritraevano le immagini pensate dal soggetto medianico. Il Mamler descrisse la sua esperienza nel libro Personal Experiences in Spirit Photography.